in questa giornata, chiudiamo con i pesci in una complicata nel segno del sagittario, quello è un settore che per voi ha a che fare con le ambizioni, con la voglia di successo, notate che nonostante tutti i vostri sforzi non riuscite mai alla fine però ad ottenere quello che veramente desiderate, del resto con questo Saturno in questa posizione una cosa a cui dovete un pochettino abituarvi, che cosa significa? Che forse i progetti devono essere un po' meno ambiziosi e dovete rimanere un po' di più con i piedi per terra, piccoli risultati ma certi, questa è la politica che voi dovete sposare.